Nell'orto di Gino c'è una pianta strana, lui dice che coltiva l'insalata indiana, dici che è buona, che è un po' particolare, che il seme viene da una zona tropicale, e tu vedessi come la cura, non lo avevo mai visto e tante attenzioni per la verdura. Non lo capisco, mi sembra strano, lui che non aveva mai preso una zappa in mano. Nell'orto di Gino c'è una pianta strana, lui dice che coltiva l'insalata indiana, è buona secca, senza condimenti, è curativa, dice ci fanno anche fumenti, si raccomanda che non vuole pubblicità. pochi clienti ma di qualità, non lo capisco, mi sembra strano, lui che aveva sempre odiato fare l'ortolano. Nell'orto di Gino c'è l'insalata indiana, l'ho detta a tutti perché è una cosa troppo strana, un anno arrestato, è un mese ieri. I carabinieri mi ha scritto dalla galera, una lettera intera, mi ha scritto che son mezzo scemo e mezzo infame, che è colpa mia, sei andato tutta puttane, e anche che io son su amico, guaiacchi mi tocca. Ci pensa lui quando esce a chiudermi la bocca. Nell'orto di Gino, nell'orto di Gino. Nell'orto di Gino, nell'orto di Gino, nell'orto di Gino. Nell'orto di Gino, nell'orto di Gino. Grazie a tutti.